Al civico 14 di via Mozart a Milano c'è la splendida villa Necchi Campiglio, costruita dall'architetto milanese Piero Portaluppi nel 1930. La villa era stata ideata per la famiglia Necchi Campiglio. Sì, la Necchi era una famiglia della giata borghesia lombarda, proprietaria dell'azienda delle famose macchine da cucire, che ebbe il boom durante gli anni 30 quando da azienda produttrice di radiatori divenne l'azienda produttrice delle famose macchine da cucire. Tra i vari modelli famosa la Mirella che vinse addirittura il compasso d'oro per quale capolavoro di funzionalità ed estetica durante una trennale di Milano. Il rapporto con la trennale è stato omaggiato nello scorso salone con una collaborazione con i ragazzi di fabbrica che hanno ideato degli oggetti d'arredo per la villa affinché potessero, diciamo, nascondersi in maniera camaleontica con quelli già presenti, tra i quali specchiere, oggetti di ceramica, tolette, addirittura una sedia portatile per completare il corredo del dottor Angelo che aveva già una scrivania portatile. Nel 2010 la villa ospita anche Tilda Swinton e tutto il cast del film Io sono l'amore che vale la pena di vedere non tanto per la regia discutibile ma piuttosto per la fantastica interpretazione di Tilda Swinton e soprattutto per poter vedere gli interni della casa. Splendidi.